Maria, per favore, cosa c'è per pranzo? Minestra, polla e verdura. No, niente minestra, portami subito il secondo. Dovresti mangiare un po' di minestra stasera, è buonissima. Alla tua età io ne mangiavo tre piatti. Alla mia età stavi già scopandoti uno per uno tutti gli amici di tuo padre. Vero, nonnina? Cosa hai detto?